A volte hai la sensazione di sentirti un po' manipolato, anche emotivamente. E certo, non è semplice capire quali siano i segni. Se interessato a questo argomento, allora sappi che possono essere anche dei segni molto sottili, quelli che usano i manipolatori, che come obiettivo hanno solo quello di avere potere nella relazione o nella situazione che stanno vivendo in quel momento. È chiaro che una relazione che sia affettiva, sentimentale o che sia professionale si basa sulla stima, sulla fiducia, sulla comprensione reciproca. Ma è anche vero che a volte alcune persone usano la relazione per trarre un proprio vantaggio personale e professionale. Proviamo allora ad imparare a riconoscere quali possono essere questi sottili segni. Elenchiamone 10. Intanto, benvenuto o bentornato sul canale. E se sei interessato a questi argomenti, cioè alla psicologia, la psicologia applicata alla vita, alla crescita personale, puoi iscriverti al canale YouTube Fabio Mazza, in cui potrai trovare altri video che parlano di questi argomenti. E se vuoi rimanere sempre aggiornato su ogni video che esce, clicca sulla campanella accanto al pulsante iscriviti e sarai costantemente aggiornato. Il primo segno, la prima bandiera rossa che ci fa pensare che siamo di fronte a dei potenziali manipolatori emotivi è quando la persona si avvicina troppo e lo fa anche troppo velocemente. Perché in una relazione qualsiasi normale, diciamo, esistono alcuni step che vanno un pochino rispettati. Cioè c'è la presentazione, poi c'è una fase di interlocutoria, poi c'è una fase di conoscenza un po' più approfondita. E poi dopo, quando si entra più in confidenza, esiste anche la possibilità di aumentare l'intimità fino a raccontarsi i segreti. I manipolatori invece iniziano subito a raccontare cose molto profonde, molto intime, anche in un momento in cui non si è ancora pronti per riceverle o per darle queste informazioni. Però in realtà stanno facendo qualcosa di manipolativo, cioè cercano di raccontarti quello che loro pensano possa interessarti e colpirti in modo tale che tu ti senta libera o libero di raccontare a tua volta le cose per te molto profonde. E useranno però questi tuoi segreti, queste tue cose molto intime, poi contro di te. Ma come nei migliori lovebombing ti faranno sentire come se questo feeling non sia mai esistito per loro precedentemente, che veramente scorgono in te l'anima gemella, che proprio sei il collega che hanno sempre aspettato. Secondo è che ti lasciano sempre parlare per primo o per prima. Questa è una classica tattica che si usa anche nelle relazioni e nelle transazioni commerciali. Si fa parlare prima all'altra persona, si cerca di capire quali sono le informazioni più importanti e poi dopo le si usano contro di lei. E quindi hai la sensazione, un po' sottile, ma a volte anche abbastanza evidente, che ti sembra di parlare troppo con loro, di essere quella o quello che si esprime tantissimo, che gli vengono fatte un sacco di domande, ma poi anche molto precise. Ah, hai lavorato in quell'azienda? Allora che tipo di rapporto avevi col tuo capo? Com'è andata? Ma perché non ti trovi bene? Ma raccontami come sono i tuoi colleghi? Ma insomma, tante investigazioni, approfondimento. Ah, ma quindi hai avuto dei partner precedenti? Ah, quindi sei stata tradita? Hai tradito? Hai fatto questo? Hai fatto quell'altro? Ma come erano con te? Ma quindi tu poi dopo come sei rimasta? Come sei rimasto? Hai ancora dei rapporti con i loro figli? Non hai più rapporti? E tu inizi a sentirti completamente interrogato. Ma in una situazione che tu consideri normale, ti sembra che poi ci sarà una reciprocità. In realtà, molto probabilmente, questa reciprocità non esiste, perché loro lo stanno facendo per ottenere più informazioni, per avere più controllo. Tre, faranno di tutto per farti sentire dispiaciuto e in colpa, per aver posto loro delle domande rispetto a delle tue sensazioni. Ad esempio, ti senti troppo incalzato? Senti che ti fa troppe domande? Ti sembra che stai andando troppo veloce? Esprimi dei dubbi e inizi a dire, ma mi sembra che quella cosa lì mi l'hai già chiesta, ma perché mi chiedi tutte queste cose? Il manipolatore, la manipolatrice, non risponderanno in maniera cordiale. In quel momento, invece, diventeranno un po' più aggressivi e ti faranno sentire in colpa. Ti diranno, ah, però caspita, cioè, se in una relazione non ti fidi, ho capito che hai avuto brutte esperienze, però perché non devi fidarti di me? Mi dà fastidio questa cosa, mi dispiace. Quattro sono maestri e maestre nel distorcere i fatti. Ma anche qui, non sottovalutare le sensazioni che hai. Questa sensazione che qualcosa non quadri completamente. Escono da una relazione con un ex, con una ex, e ti racconteranno che questo partner, questa partner, gli stanno completamente opprimendo con delle richieste, con delle domande, si fanno sempre trovare sotto casa, non li lasciano mai liberi, interpretano tutto male, che loro sono delle povere vittime di quello che sta succedendo. E da un lato ti senti molto empatico col fatto che loro soffrono di questa situazione, però dall'altro inizi a chiederti cosa facciano loro all'interno del conflitto, come si comportino in realtà, perché da quello che emerge non si capisce mai che ruolo loro abbiano in queste situazioni difficili. Inizi a chiederti, ma saranno sempre vittime? Cioè saranno veramente circondate da persone che li trattano male, che le trattano male, in cui loro non hanno mai responsabilità. Quinta bandiera rossa, quando parli con loro, loro diminuiscono sempre i tuoi problemi e mettono l'attenzione sempre sui propri. Hai avuto una pessima giornata, sei tornata a casa, non riuscivi proprio neanche a sederti per quanto hai dovuto lavorare tutto il giorno, hai avuto un problema con il cliente, hai avuto un problema col capo, hai incontrato una tua amica che adesso ti ha detto che sta molto male, ha dei problemi grossi anche di salute, ti trovi di fronte a una persona che probabilmente ti dirà eh vabbè, ma non importa, ma non ti preoccupare. Ah, quel cliente ti ha trattato in quel modo, beh sappi che io qualche anno fa, ho perso anche un lavoro per colpa di un cliente e le cose sono andate molto peggio di come sono andate per te. Almeno tu hai qualcosa, avrai di meglio e di più per poter stare un po' meno preoccupata di quanto lo faccia lui o lei. Sappi che comunque quando tu mi dici così di tuo fratello che si comporta così male con te, che ti tratta così, dovresti ringraziare il cielo che hai un fratello. Io mi sono sentita, mi sono sentito solo tutta la vita essendo figlio unico. Il mio è stato veramente un dramma, ma quello che sappiamo di sicuro è che alla fine di questa conversazione i problemi seri ce li ha solamente il manipolatore. Sesto, non capisci perché, ma quando ti fanno una critica e tu reagisci in maniera un po' smodata, perché sei stufo o sei stufa di sentirci a riferire, loro come spiegazione ti daranno sempre quella eh ma stavo scherzando, sei a una cena con dei tuoi amici e tu stai ridendo in maniera un po' più grossolana del solito e loro ti fanno notare che sei sempre imbarazzante, caspita, ci sono delle situazioni in cui ridi proprio sguaiatamente e tu ti senti umiliata o umiliato e le rivolgi una domanda e gli dici ma perché mi hai criticato, mi hai fatto fare quella brutta figura? E loro ti guardano e ti dicono ma cosa dici? Stavo scherzando. oppure ti fanno una battuta sul troppo sale nella pasta wow l'hai bollita nel mar morto non si riesci neanche a mangiare e tu gli dici ma perché mi hai detto così in questo modo? E loro ti rispondono wow mi sembri un po' stanca un po' stanco ho fatto solamente un apprezzamento stavo scherzando ho detto così per dire era buonissima comunque vada ogni cosa che tu rimandi loro come una critica nei tuoi confronti loro te la fanno passare come se in quel caso stessero scherzando. Sette i veri manipolatori emotivi non si sognano neppure di prendersi la responsabilità di una cosa che hanno fatto e quindi ti faranno ricadere su di te tutto ciò che capita di sbagliato. Esci una sera con i tuoi amici con i vecchi compagni di classe e ti fa stare in pensiero perché poi non risponde perché non si fa trovare perché comunque è diventata per te una situazione difficile da gestire e tu gli dici ma perché mi hai fatto passare una serata del genere? quello che ti risponderà sarà eh ma guarda io ti amo così tanto che non volevo disturbarti e ho fatto questo per te e ti faranno sentire in colpa per non aver capito la bontà del loro gesto di non rispondere alle tue chiamate. condividete un progetto di lavoro dovete consegnare assolutamente questo progetto entro venerdì tu venerdì mattina hai la premiazione di tuo figlio che esce dall'università con addirittura la pubblicazione della tesi è qualcosa che non vuoi perderti una vera soddisfazione per te il progetto non funziona bene perché lui si dimentica o lei si dimentica di fare quello che doveva fare o lo fa sbagliato quando torni e il tuo capo si arrabbia quello che dirà lui davanti a tutti è che se tu non fossi andato alla premiazione probabilmente non sarebbe successo questo errore 8 usano le tue insicurezze contro di te in questi casi si ha proprio la sensazione che quello che noi abbiamo passato loro dicendo con il cuore in mano loro lo prendano e lo utilizzano invece come un pugnale per ferirti ogni volta in cui entri in conflitto e il loro obiettivo è quello di ferirti e di farti rimanere scosso e lo faranno ogni volta che si presenterà l'occasione o l'utilità il matrimonio non funziona ci sono delle liti è difficile convivere con una manipolatrice o un manipolatore emotivo certo e i figli soffriranno di questo ovviamente che soffrono di questo e allora ti rinfaceranno il fatto che gli hai detto che siccome i tuoi genitori siano separati l'ultima cosa che avresti voluto nella vita è far vivere ai tuoi figli quelle sensazioni e te lo rinfaceranno ti diranno proprio tu che mi hai detto questa cosa guarda cosa gli stai facendo 8 abusano dei sensi di colpa abusano dell'ultimatum sei all'interno di un conflitto? stai discutendo con un collega con il tuo partner con la tua partner? bene loro useranno il senso di colpa e il ricatto emotivo e gli ultimatum per vincere quella partita e lo faranno soprattutto nel momento in cui si accorgono che tu sei una persona empatica che tieni agli altri che sei generoso o generosa che sei altruista e che sai ascoltare a quel punto useranno il ricatto emotivo il senso di colpa eppure gli ultimatum ad esempio se tu inizi e provi a discutere della qualità del tuo rapporto con un manipolatore o una manipolatrice e inizi a dire guarda ci sono delle cose che non mi piacciono tanto mi piacerebbe che ci lavorassimo parliamone con qualcuno loro la prima cosa che ti dicono è ah quindi mi stai dicendo che ci stiamo lasciando quindi per te adesso non possiamo più stare insieme e d'altro lato ti diranno bene sappi che se tu mi lasci io mi ammazzo comunque ti lasceranno in una situazione emotiva in cui ti sentirai veramente bloccato nove molte volte dicono cose fanno cose che in realtà poi negano di aver fatto o di aver detto ti mandano proprio in confusione si potrebbe anche chiamare gaslighting perché così facendo riescono sempre a metterti dei dubbi perché tu che parli sinceramente non ti sentiresti in grado di mentire su certe cose e se loro ti dicono che non l'hanno mai detto o non l'hanno mai fatto inizi proprio a dubitarne ad esempio ah mi avevi detto che avresti messo a posto quella stanza perché dobbiamo poi dopo preparare tutto per l'arrivo del figlio e invece sono passate due settimane e non l'hai fatto assolutamente io non ho mai detto questa cosa probabilmente hai pensato tu che potrei averla detta ma non l'ho proprio detta comunque alla fine negheranno sempre di aver detto o fatto cose che in quel momento sono spiacevoli per te dieci stavate parlando e lui o lei ti hanno tirato fuori delle cose emotivamente molto forti che ti hanno fatto veramente arrabbiare hai iniziato a reagire in maniera un po' smodata un po' scomposta senti ti senti emotivamente un po' ferito o ferita ebbene dall'altra parte il manipolatore generalmente ha una reazione all'opposto più tu ti arrabbi per le sue provocazioni e più lui o lei rimangono calmi veramente quasi zen in modo tale di poter dire guarda come ti comporti vedi che reazioni che hai per farti passare dalla parte del torto e discutere con te della tua sanità mentale facendoti a volte dubitare di essere in grado di reggere nelle relazioni nei rapporti e che quindi sei tu la causa delle cose che non funzionano che tu sia un collega che tu sia un fidanzato o una fidanzata qualsiasi cosa sei sempre tu che sbagli è chiaro che ci potrebbe volere del tempo per rendersi conto che comunque queste cose stanno avvenendo e stanno trasformando il tuo modo di vivere e le tue relazioni che siano colleghi amici o familiari o partner come fare per sopravvivere o comunque riconoscere e quindi superare queste situazioni la prima cosa è informarsi quello che stai facendo in questo momento cioè ascoltare tanti video in questo caso leggere articoli o comunque informarti presso persone che hanno delle competenze per poter riconoscere questi meccanismi perché se vuoi veramente sopravvivere non devi batterti allo stesso gioco con le stesse regole perché il manipolatore emotivo molto spesso è una persona che non prova empatia non prova rimorso che sente solo i propri bisogni e vuole avere più potere cosa che generalmente una persona con uno sviluppo normale non vive come ossessione ma semplicemente crede che l'altra persona sia onesta leale che abbia lo stesso intento nella comunicazione cioè di risolvere le cose di vivere bene come l'ha la stessa persona che si sta interrogando invece dall'altra parte non è così e quindi entrare in conflitto avendo dei rimorsi e l'altra persona non ne ha ci mette veramente in una posizione di grande debolezza e allora è più importante riconoscere le situazioni stabilire dei limiti oltre i quali non si può andare perché ogni volta che loro prevaricano sentono di poter affondare ancora un po' di più il loro potere su di te e se questa persona è una persona alla quale non sei particolarmente legato non è un genitore non è un figlio e quindi puoi anche fare in modo di eliminarla dalla tua vita cerca di prendere in considerazione il no contact cioè di tagliarla proprio dalla tua vita se invece devi imparare a gestire queste situazioni dovrai comunque mettere dei limiti alla relazione e ogni volta che senti quel campanellino che suona che ti dice ma c'è qualcosa che non funziona in questa situazione non mi fa sentire bene mi sento sempre in obbligo mi sento sempre sbagliato o sbagliata allora bisogna aumentare i limiti diminuire i contatti anche se sia colleghi di lavoro cercare di stabilire delle regole ben precise e nel momento in cui il manipolatore o la manipolatrice sentono che stai scoprendo il gioco faranno fatica a mantenere il loro ruolo all'interno di questo tipo di relazione chiaramente ci sono dei limiti oltre i quali è importante rivolgersi ad altri a conoscenti che ci aiutino a mettere in luce questi meccanismi anche a persone familiari se possono essere d'aiuto e se sono veramente difficili e sottili allora rivolgersi a un terapeuta a qualcuno che sia un professionista che possa darci un punto di vista più tecnico più specifico che ci aiuti davvero a porre dei limiti come dicevamo in precedenza se questo video ti è piaciuto puoi lasciare un like e se hai degli spunti dei commenti e vuoi raccontare delle tue esperienze lo puoi fare qua sotto nei commenti grazie a tutti